Bentornati in un nuovo Smile Tutorialita, con un tono abbastanza sonnolento Non so perchè mi sta venendo sonno addosso tremendo Questa volta iniziamo con la lettera N Questa volta sono due video per fortuna A parte perchè sennò Tra l'altro qui c'è Naja, Nith e Nemesis E siccome Nith l'ho già fatta nel video di quelli iniziali La farò brevemente, brevemente, più velocemente possibile Allora, Naja è un Assassin Ricordate come dicessi che Mercury era praticamente l'unico Assassin critical M'ero dimenticato di lui Anche se lo vedo parecchio il suo personaggio in effetti Almeno lo si vede parecchio all'inizio poi Non si sa Quando si gioca più che altro Allora, è un Assassin che può far critico sì Grazie alle sue passive e alla sua ulti Però diciamo che Non è tutta questa cosa del critico per forza Ed è uno dei tre Assassin Che viene userizzato anche come support Che non l'ho mai provato perchè non usavo farlo Questa è una skin basata sempre sulla cosa di Tron Ce ne sono parecchie di queste cose Allora, la sua passiva praticamente Ogni volta che atcolpisce un nemico con abilità di attacchi base Guadagna una carica di questa passiva E praticamente Beh, dice che ogni attacco critico Gli dà due cariche di passiva invece di uno Vabbè, si risettano se non fa O non prende o non fa danni praticamente E dici dopo dici secondi Come potete vedere il fiore che si riempie L'altro lui dovrebbe essere della leggenda del principe del loto Ah, è mitologia cinese Quanti stack è massimo? 20 Così campiamo 200 anni però tesoro Aggiuntivamente il fatto che gli hanno cambiata questa passiva Che praticamente per ogni stack gli aumentava la riuscita È il critico se non sbaglio Allora, prima skill Praticamente è un proiettile che rimbalzerà tra vari nemici E li rallenterà se non sbaglio Praticamente rimbalzerà tra vari nemici più di una volta Facendo danni e applicando un debuff di difesa fisica E li rallenterà Ogni colpo praticamente aumenterà Ah, gli darà un buff che si carica Che ha cariche Che si stacca in base ai nemici colpiti Di velocità di movimento Vabbè, poi dice che probabilmente I più colpi sullo stesso bersaglio faranno sempre meno danni Insomma Però gli infigge lo stroke Così E il buff di velocità di movimento non è così basso In realtà, è bello alto Poi è utile, vabbè Questa cosa specialmente sui minion è utile per Caricare velocemente la passiva Come potete vedere Seconda skill praticamente si potenzia All'attivazione Guadagnando Velocità d'attacco E chance di critico Per una breve Per una breve periodo E praticamente dice Che all'attivazione è curato in base a quante cariche Quante sta cariche della passiva Quindi dice Guardate Dice O critico Ecco Massimo del critico Chance è 15% Ok Non cambia Per il livello Se non so Quindi per questo dicevo Il critico Ma c'è un'altra parte Del critico Terza skill Linea retta Che praticamente È un bersaglio Che come colpisce un nemico Gli farà uno stun E lo attirerà a sé No E verrà Se attirarsi Così Facendo Danno all'atterraggio Ah sì Quest'abilità può fare critico Se tutto fa critico Con questo personaggio Ma Darlo critico Subito Non è una buona idea Secondo me Ho visto farsi così tante volte Bruiser Che fa più danni Bruiser Anche perché Un 15% di critico Ce l'avete Quindi non è che Bisogna per forza La ulti Mamma mia Che casino Ve la mostro Che è meglio No l'ho mancato Vabbè Come avete visto Praticamente sono diventati Immuni effetti di controllo L'ho dashato in avanti E ho colpito un nemico Se colpisco un nemico Per l'interno me lo porto via con me Praticamente i prossimi tre attacchi Come vedete C'hanno una specie di quick time event Posso colpire questi quattro attacchi Tre attacchi timati bene Cioè col tempo Quick time event E posso fare critico Quando azzecco il tempismo Quando il fiore Si appena Si realizzano Quando il fiore Appare blu Pervermente Vuol dire che Se lo fa azzeccato E poi va bene Lo riporta giù E gli fa danni Quando Scendi giù Quindi praticamente fa danni Quando lo lancia in aria I tre attacchi Che fa E poi quando fa un'altra volta Danno Quando A terra Ah Quando sono in aria I nemici Non vengono considerati A È un modo per Eseguire Fare un'esecuzione Vediamo se posso fare Una cosa del tipo Ovviamente c'è una cosa da aggiungere Quando fate la ulti Non state utilizzando Il critico dell'attacco base Quindi c'è Farete critico Si ma farete il critico Sul danno della skill Ovviamente a livello 1 Non fa un cazzo Quella cosa È normale A livello 1 Aggiuntivamente Caricate la passiva Con gli anelli Anche semplicemente Langiandola al volo Addosso A un gruppo di nemici E cose così Perché Più stack avete Più vi curate Dalla passiva Ovviamente Dalla Dalla seconda skill Però Più stack avete Come ho già detto Più aumenta Tra l'altro Vabbè Che scemo Non l'ho detto Non lo dice infatti Mica lo dice scritto Ecco perché Non l'ho letto Perché praticamente La passiva Quello che dà Con gli stack È Velocità di movimento È normale Che non vedevo Ora magari A questa skill Magari Un'una cosa Da aggiungere È che la prima skill Tanto Nit la parlo Velocemente Così ve la spiego Bene È che La prima skill A livello alto A livello massimo Mazzata Farà un sacco di più Di rimbalzi Farà molti più rimbalzi Farà da Quattro rimbalzi A livello Uno A otto rimbalzi A livello A livello massimo Quindi vuol dire Tanti rimbalzi E tanto rallentamento E tanta velocità di movimento Per voi E tanti stack Ovviamente Che fortuna Sta skill Non infligge Critico Perché Sennò Vedevo In caso Allora La velocità Di attacco Con questa skill Però vedete Mi sono buildato Anche danni Ovviamente Non mi sono buildato Unicamente critico Ok perché Magari A posto Della Della trascendenza Avrei potuto farmi Coso Il Brawler Per ridurre L'ealing D'amico Andiamo avanti Anche perché Nemesis La preferisco Allora Neat Hunter L'egizio L'egizio L'idea del fato Non so come Allora Ho già spiegato Questo è uno di personaggi Base che danno L'inizio Skin da pirata E Sinceramente Verità È il personaggio Che ha Più skin Del gioco Ogni anno Ne fanno uscire Quattro Cinque Non lo so Ma basta Basta Faccio una Faccio una Petizione Dato lo so Che mi sentite male Ma perché sono sotto L'archidride Della mia stanza Basta Vi prego Allora Passiva Velocemente Passiva Praticamente ogni volta Che muore un personaggio Rimane una cosetta Per terra Che praticamente Si attiva Con le sue Abilità E praticamente Queste cose Rimano per terra Per un minuto Sono nodi Ecco Li chiameremo Nodi Del destino Così così Prima skill Proietti In linea retta Che colpisce I nemici Che passa Attraverso E li ferma Sul posto Semplicemente Se passa Su un Nodo La skin Esploderà Farà più danni E praticamente Infrigerà i danni In l'aria Infrigerà Route In tutelare Invece di essere In linea retta Infrigerà Infrigerà i danni In aria Seconda skill Scusatevi Dovevo riprendere il fiato Allora Prima di metter In una zona Bersaglio In una zona Bersaglio Infrigerà Danni Che durerà La velocità D'attacco Dei nemici E Curerà NIT In base a quanti nemici Colpisce Oltre Aggiuntivamente Guadagnarà La velocità D'attacco Lei Se c'è Un nodo Sopra All'attivazione Praticamente Con sopra Il nodo E guarirà NIT In base Alla salute Che gli manca Credo No Curerà NIT Punto Per una Cosa aggiuntiva Prima non ce l'aveva Il buff Di potenziamento Di velocità D'attacco Ma Molti Gliel'hanno fatta Solo perché Così Venivesse usato Un po' di più Anche perché È un personaggio Che più o meno Si vede tanto Ma che nessuno Dopodotto Non usa più Terza skill Come vedete Il backflip Che salta al contrario Occhio a non saltare Adostra ai muri Fa danni a cono Davanti a sé Rilascia un nodo Può rilasciare un nodo Solo uno alla volta Uno alla volta E vabbè Rallenta i nemici Che colpisce Con questa skill La sua ulti È una global Che praticamente È uno snipe Su tutti Qualsiasi nemico Lei Abbia visione Devo Finché lei Ha visione Su un nemico Può usare Questa skill Sopra di lei Praticamente Lei si ferma Sul posto Comincia a caricare La freccia Più caricherà la freccia Più danni farà La skill Ehm Ovviamente Più caricherà la freccia Più lo stun Aumenterà Praticamente Ehm Non è immune Gli effetti di controllo Non è immune Niente Quindi È vulnerabile In questa posizione Però È a lungo raggio Da una global Che praticamente Questa skill Passa attraverso Tutti i muri Può essere body bloccata Quindi non è difficile Bloccare questa skill Però Diciamo che In late game Fa parecchi danni Ovviamente Lo vedete arrivare Sarebbe stupido Non dare una skill Del genere Non fare sì Che l'avversario La possa vedere arrivare Perché altrimenti Sarebbe Un pochino Improponibile E quindi Vi apparirà Vi apparirà Sulla testa Proprio un mirino Di un persona Di un mirino Che praticamente Vi darà Mi dirà Sta arrivando Il colpo Preparati Quindi o Sperate che un Vosso alleato Vi pari Oppure Beh ciccia Me la beccata Ovviamente Non cercate Sempre di cercare Lo snipe Perfetto Perché questa ulti Può essere anche Una semplice Engage Come ho già detto Vi basta vedere visione Quindi anche se un alleato Sta vedendo un nemico Davanti a sé Che ha questa Che Anche se un nemico Sta vedendo Viene vista Un vostro alleato Avete il tempo Di caricare La ulti E fare Semplice Abbastanza Ulita da usare Ma secondo me Sì è viabile Però ci sono personaggi Decisamente migliori Ed è un Hunter Che si gioca anche Mid specialmente Perché ha Dei buoni danni Fisici Fisti Con le skill Come la skill Che ho Come La build Che ho adesso All'altro Semplice Ah è vero Se non colpisco Un nemico Non ve lo dà il buff Eh già Questa cosa Non c'è scritto Già Non lo dice Il buff Di velocità Attacco Lo tenete Solo se colpite Un god Il nemico Questo non lo dice Bella roba Passiamo a Nemesis Che è una signora Più interessante Finalmente Parliamo Della gentil signora Allora La skin è bellissima È praticamente Ispirata a Monster Hunter È un'altra Di quelle che è Ispirata a Monster Hunter Che sono Quella di Are Sashiman Url E un'altra Che non mi ricordo E poi c'è lei Nemesis È un assassino Avrei presente Il stato Davanti al tribunale O Espiramente Quando fanno Vesivare Una donna Bendata Che È in mano Una bilancia Ed un'altra mano C'è una spada È lei Lei Vabbè Qui è rappresentata Come idea Della vendetta O diciamo Della vendetta giusta Quindi della giustizia E È un assassin Siete sfigati Che sto usando Sto usando Una skin Perché la skin base Diciamo Ti fa venire il dubbio Sulla Se La data Le L'età minima Di gioco Di questo gioco Abbia Forse Sbagliato Ragazzi La calza La redduttore Vabbè è bellissima Non lo so Che cazzo Ne posso dire Sarò stupido Io come uomo Che cazzo Ne so Allora Lei è un assassin Un assassin Che adesso Usata parecchio Usata Sia auto-attacker Che Danni L'ho vista Più auto-attacker Per il momento È un peccato Perché Mi piaceva tanto Farla Danni fissi Però Diciamo che È molto utile Ha l'abilità Di fare fuori Tank Bastanza velocemente O Con una ulti Capace di Praticamente ridurgli Tutte le difese Che c'ha In un mezzo secondo Allora Praticamente La sua skill La sua passiva Praticamente Ogni volta che colpisci Attacchi con gli attacchi Base Un nemico Tutti i nemici Qui schifono Praticamente riduce La loro Potenza sia fisica Che magica E aumenta la propria Praticamente Questa cosa A tre star Si può fare Si può attivare Fino a tre volte di fila E Dura per quattro secondi Gli è rubata La cosa Sì Una cosa della giustizia Che gli è rubata Il potere Sembra giusto Allora La prima skill È uno scatto Che praticamente Può effettuare Due volte In due secondi Praticamente Il primo scatto E poi potete Rifare un'altra volta Semplice Aggiuntivamente Può attivare Le abilità Prima del secondo scatto E Beh Così via Semplicemente Potete Fare una cosa così E poi riattivarlo Fate dei danni Ogni volta Che passate Attraverso un nemico Però più che altro È una cosa Per Per Rapidamente Raggiungere l'emico O scappare O Non so Anche fare i danni All'ultimo Slice and dice Come avete visto Probabilmente È un attacco a cono A ventaglio Davanti a sé Che fa danno I nemici al centro Subiscono il doppio Dei danni E vengono ralentati Che figo S'effetto Però bella Sto skill Terzo skill Allora Praticamente Gli dà Uno scudo Si dà Uno scudo Temporaneo Praticamente Per tot Che dura Tot danni O Tot tempo E praticamente Una percentuale Dei danni Che subisce Degli nemici È curato E viene riflesso A loro È utilissimo Contro Contro Personaggi Che hanno Molte abilità Tick Tipo Merlin Kukulkan Col tornado O anche Attacchi base Semplicemente Se vi faccio vedere Non si è visto un cazzo Perché non è durato niente Dai ucciditi Quindi riflette i danni E Aggiuntivamente Però State attenti Che praticamente Gli effetti di controllo Pesanti Tipo stun E cose così Ritolgono immediatamente Lo scudo Quindi occhio A quello che fate Tra l'altro Mi ricordo Di una volta Di essere Sopravvissuto Tipo La ulti Di Vulkan Presa in pieno Con questo scudo All'ultimo Che praticamente Avevo tipo 10 hp Ho attivato al volo Questa skill Mentre mi sta arrivando Addosso quella cannonata E mi sono curato Tipo del 20% Della skill E sono scappato Di corsa Perché praticamente L'ho salvato Per fortuna Allora La ulti è un buff Praticamente Colpisce un singolo nemico Che gli deduce La loro salute La loro velocità di movimento E gli ruba Una parte Della loro protezione Per un breve periodo Di tempo Aggiuntivamente Durante questo periodo Di tempo La sua velocità di movimento È aumentata Come vediamo Ragionazione A passanza alto Perché Cosa dovete fare In questo momento Primo Non serve per forza Colpire gli squishy Come dice il nome Ruba una porzione Della loro protezione Una loro protezione Se voi colpite Uno squishy Per esempio Un mid laner Un mago mid lane O un carry Non ottenete Un granché Come protezione Il fatto di danno Li rallentate Quindi è utile Per prendere le kill Al volo Per prendere le kill Però se colpite Un tank In mezzo a una team Per esempio Rallentate il tank Li riducete Sia protezione E tutto il resto E ne guadagnate voi Kill buff All'inizio Sembra poco Però Late game Una cosa del genere Contro tank Diventa l'utility Assurdo Perché shredda Cioè Quando dico shredda Intendo dire Che riduce Le difese Di tantissimo 30% Di protezione A un Che so Un support Late game Equivale praticamente Avergli tolto Un botto Di 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 Difesa E quindi Niente Questo era Erano Nanja Nit Per la seconda volta E Nemesis E niente Ci vediamo Ai prossimi video Timo Timo Che Timo Timo Timo